Essere artisti lo sei, cioè lo sei, lo sei, non puoi non puoi fare altro. Ti stai a sentire? Cerca di capirmi per una volta. Non ho periodo di farcela, ci provo. Io ho sempre pensato che gli artisti, è inutile che parlino del proprio lavoro, gli artisti si esprimono col proprio lavoro. Mi alzano gli evi, fumi premonitori. Grazie. Grazie. Grazie.